Gli eletti del lavoro premiati a Little Cedar. L'onorevole Eugenio Gatto, sottosegretario alle partecipazioni statali, visita gli impianti di Marghera. Lo accompagnano il presidente Ingegner Marchesi, l'amministratore delegato Redaelli Spreafico e il direttore generale Osti. Strisciano veloci i lunghi serpenti di fuoco nel reparto di laminazione, attrezzato con tre forni a spinta da 20, 15 e 10 tonnellate ora. Dopo la visita allo stabilimento il sottosegretario assiste all'incontro che l'ingegner Marchesi ha con la commissione interna, la quale illustra il nuovo assetto di Marghera. Nei locali del circolo aziendale ha luogo infine la premiazione dei 100 lavoratori anziani. Di essi 22 hanno lavorato qui 35 anni e assieme al diploma ricevono in premio un orologio d'oro.